Bene, allora aprite Git Bash in una directory a vostro piacere e andiamo a creare il nostro primo progetto React semplicemente digitando npx, quindi create, create, queste cose dovreste già saperle se avete le basi di React app, create React app, la chiameremo testhook invio e attendiamo un istante che vengano scaricate le dipendenze, quindi tutto il pacchetto nel fortempo possiamo fare un ripasso, un ripasso teorico quindi come ben sapete React è una libreria JIS atta alla realizzazione di user interface uno dei vantaggi di React è l'imporre allo sviluppatore un flusso di dati rigoroso quindi React applica una struttura chiara, quindi ci sono un contenitore di componenti di presentazione e come dicevo in precedenza un flusso di dati rigoroso, quindi i componenti reagiscono allo stato e gli oggetti di scena cambiano tutto ciò rende lo sviluppo frontend, quindi molto più semplice rispetto a prima quando si utilizzava solamente JavaScript puro inoltre secondo la teoria base di React una parte dello user interface può reagire in risposta al cambiamento di stato questo fino all'avvento degli UX quindi la forma base per esprimere questo flusso veniva gestito dalle classi ES6 quindi ora per comprendere meglio tutto ciò questa parte teorica che potrebbe essere anche neosa realizzeremo una serie di esempi una volta che saranno scaricate le dipendenze di React benissimo, le dipendenze sono state scaricate per cui se usate Visual Studio Code come io nel mio caso semplicemente qui andiamo ad aprire spostiamo innanzitutto innanzitutto all'interno di Testhook come ci suggerisce qui e ora possiamo aprire con Visual Studio Code semplicemente inserendo qui quindi all'interno del progetto però Code spazio punto e si apre in automatico il nostro Visual Studio quindi il nostro IDE all'interno quindi aprirà il progetto qui posso anche uscire in quanto ora ho la possibilità di utilizzare il terminale di Visual Studio per velocizzare il tutto quindi da qui esco ok quindi attendiamo che si inizializzi il nostro IDE come vi dicevo io ho installato l'estensione react snippets molto molto utile quindi potete installarla anche direttamente dal qui quindi nel marketplace ora aspettiamo che si inizializzi per bene quindi react se la cercate react snippets quindi quindi se allarghiamo questa barra non è la prima in quanto include react native snippets ora a voi non interessa ma sarà questa qui quindi simple react snippets di work Holland quindi vi consiglio di installarla benissimo ora vi faccio vedere come è utile ora vi dicevo per poter apprezzare meglio quindi l'utilità degli hook faremo degli esempi pratici quindi la differenza fra un componente a classe e un componente funzionale con gli hook per cui innanzitutto andiamo subito a creare una cartella all'interno del di source la chiameremo component dove all'interno andremo a quindi a realizzare un componente per poter fare la prima prova di button la chiameremo button js e questo sarà realizzato inizialmente con un componente a classe quindi molto molto semplice quindi se andiamo ad inserire uno snippet rcc e digitate tab lui ci crea grazie quindi il visore studio grazie all'estensione ci crea subito il componente a classe come vedete ora nel prossimo video andremo ad implementarlo e